un nuovo shooting con nuovi modelli e nuovi stilisti per la collezione autunno-inverno di nida e nida con questo shooting stiamo producendo tutto il materiale che ci servirà per il nuovo catalogo della collezione autunno-inverno per promuovere il brand nila e nila in tutto il mondo sarà sicuramente interessante perché ci sarà esordio di nila e nila nel commercio online attenzione 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 Grazie a tutti.